Buongiorno a tutti. Qualche giorno fa ho fatto un video sulle sentenze sommarie, le fucilazioni sommarie eseguite dalle forze armate italiane durante la Grande Guerra. Una lettura tratta da un saggio pubblicato dell'Officio Storico del Stato Maggiore dell'Esercito nella collana Studi Storico Militari. E proprio perché quella lettura ha creato un certo interesse, anche alcune critiche sull'immagine che ho adoperato di copertina, spendo una parola ma giusto per rispondere, non ho risposto per una questione, mi andava di fare polemica sulla polemica. Io ho scelto quella foto sapendo ovviamente che era una foto goliardica, solo che c'era un problema, non ci sono foto di fucilazioni vere, serie. Quindi ho trovato, non avendo tanto tempo per cercare una foto, magari esistono pure foto di fucilazioni vere, effettive, drammatiche nella loro essenza, ho cercato quella che si potesse assomigliare di più, che almeno fosse riguardante la Prima Guerra Mondiale e l'Esercito Italiano. Quindi ho trovato quella, potevo mettere una foto di un film, di Orizzonti di Gloria, di Uomini Contro, qualsiasi altra cosa, ma secondo me non era pertinente. Ho fatto una scelta, alcuni l'hanno giudicata poco seria, tant'è che hanno dato del giudizio a tutto Facebook, volendo dimostrare che la poca serietà della fotografia rendesse anche l'argomento del video risibile, ma alla fine comunque il video ha avuto numerose visualizzazioni, molto più di quelle che mi potesse aspettare, quindi sono contento così, va bene così. Era giusto per chiarire quella cosa che lo sapevo benissimo, c'è uno che ride e era ovvio che non fosse una cosa drammatica, però mi sembrava interessante poterci mettere una foto così a coreografia. Detto questo, visto l'interesse che ha suscitato quella lettura, ho deciso di proseguire leggendovi un altro saggio, questa volta sempre di questa collana, ma del 2005, sempre di Sergio Pelagalli. Io lo cito, appunto, è un'opera, sono opere molto interessanti, quelle di Pelagalli, che ha avuto modo di tratteggiare, di fare delle indagini molto, 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 molto approfondite, quindi io vi invito, qualora queste letture, che ovviamente sono parziali, che vogliono essere da presentazione, anche da promozione di questi studi, quindi non me ne voglia Pelagalli perché sto usando il suo lavoro, io cerco di diffondere attraverso questo canale ricerche mie, ma soprattutto anche quelle altrui, nel cercare di condividere, quindi visto che le pubblicazioni di questo tipo, di questi saggi, di queste miscellanee, di volumi, non sono spesso conosciuti, hanno anche una diffusione piuttosto limitata nella distribuzione, quindi mi sembra il caso, in questo caso, di rendere giustizia a chi scrive, a chi si è impegnato in queste opere, che appunto hanno anche alcuni anni, questo è pubblicato, come dicevo l'altra volta, il fatto che sia 2005, non significa che è stato pubblicato, 2005 perché ha una sua, come si dice, ha una sua ritardo, era un ritardo, questa pubblicazione adesso non la fanno più, però questo, vedete qui, pubblicato nel 2007, c'era una certa, intanto questo volume, così a titolo informativo, l'ho comprato, usato in un mercatino, e ci ho trovato anche una dedica, che non si capisce, dice, a Claudia, il ricordo di una sera di mezza estate, filmata, non si capisce se Amelia o Claudia, comunque queste due amiche che hanno parlato, conversato, una sera di mezza estate, a proposito di studi storico militari, mi fa piacere che questi argomenti possono essere anche oggetto di conversazioni estive, in signore, in donne, che in qualche modo apprezzano anche la storia militare, quindi mi fa piacere per tanti motivi. Detto questo, io vi leggerei le prime pagine di questo saggio, questo saggio è molto corposo, perché? Perché va a raccogliere una serie di autodifese, di testimonianze che i colpiti di siluramento, ai vari gradi della filiera gerarchica del reggio esercito, si dovevano difendere. Tra l'altro quest'opera è molto interessante, questo è uno dei valori aggiunti di questo saggio, ce ne sono tanti, ci sono gli elenchi, ci sono gli elenchi completi di gli avvicendamenti che ci sono stati nei vari livelli gerarchici. Partiamo dai comandanti d'armata esonerati, che furono otto, che può sembrare poco, ma i comandanti d'armata non è che fossero tante armate, quindi diciamo, per dire la terza armata non ha mai avuto siluramenti, che è sempre stato il Duca d'Aosta. Siluramenti del corpo d'armata esonerati, che sono 37, anche qui un numero ragguardevole in tre anni e mezzo di guerra, per comandanti di divisione, poi c'è comandanti di brigata, fino ad arrivare i comandanti di reggimento, fino ai colonnelli. Quindi diciamo, è una che è addirittura più di 400, i comandanti reggimenti, di reggimento esonerati. Quindi è un elenco molto dettagliato che evidenzia i vari cambi di incarichi da reggimento in su e quindi non è cosa da poco. Quindi diciamo, è un ulteriore valore aggiunto di questo lavoro veramente, veramente ottimo. Io vi leggerei le prime pagine, come vi ho detto, e poi dopo c'è la parte, diciamo, più degli allegati, gli allegati si fa per dire la parte corposa del saggio, la parte più documentata, rispetto a quella un po' più discorsiva del testo di Pellagalli. Allora, c'è un paragrafo che si chiama il siluramento, ovviamente va a spiegare perché vi è il termine siluramento, perché se no siluramento è un termine marinaro, cioè il siluro che colpisce una nave. In realtà qui il siluramento ha un'accezione simile, ma appunto che ha la sua specificità in un altro contesto. Il termine siluramento indica nel gergo militare la rimozione improvvisa dal comando di truppe in linea d'ufficiali di grado elevato. È diventato in uso anche nella tecnologia civile. Il provvedimento punitivo frequente nell'esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale lo è stato ancora di più in Francia, limitato invece in Austria-Ungheria, quasi inesistente in Germania. Giorgio Rochard giustifica il sistema di destituzioni anche se attuato a volte in maniera brutale perché, citazione, l'eliminazione dei tanti ufficiali incapaci di adeguarsi alle durissime esigenze del conflitto era una necessità innegabile e i suoi effetti furono in sostanza positivi, tanto che Diaz ereditò alti comandanti, generali e colonnelli complessivamente all'altezza della situazione, senza alcun dubbio più capaci di quelli del 1915 e non inferiori a quelli francesi o inglesi. Questa è una citazione di dizionario biografico degli italiani, volume 39, voce Diaz, Armando Vittorio, Roma, 1991, pagina 667. Quindi Rochard ha un po' sdoganato l'elemento negativo del sironamento, lo ha in qualche modo apprezzato. Catorna motiva di solito i provvedimenti in maniera approfondita, veri e propri trattatelli critici dell'opera e del carattere degli appartenenti alla somma, girarchia militare. La sua corrispondenza privata, lettere familiari a cura di Raffaele Catorna a Milano 1967 e le circolari sullo argomento hanno convinto chi scrive, ossia Pelagalli, che egli non incoraggiasse un fenomeno di così ampie dimensioni ma lo subisse quasi fatalisticamente, forse perché sfuggito al suo controllo. Antonio Monti, capitano di complemento in forza alla Commissione per la revisione degli esoneri dal comando, riferisce che il Siluro ha colpito anche un generale il cui aspetto pacioso gli conferiva scarsa consapevolezza e un colonnello dalla troppa marcata inflessione dialettale. Monti, combattenti e Siluola di Ferrara a 1922, pagina 159. Quindi abbiamo una varietà di motivazioni e di effetti. Il 24 aprile 1917, circolare numero 151525, egli rileva l'eccessiva frequenza con cui alti ufficiali sono esonerati dopo breve permanenza nelle cariche, virgolettato. Intendo che tali fatti, dannosissimi all'andamento stesso della guerra e perciò all'avvenire del Paese, abbiano accessare. A tale scopo è indispensabile che al comando di corpi d'armata e di divisioni ascendano soltanto coloro che per doti di intelligenza, energia, attività ascendente sulle truppe, diano sicuro affidamento di reggere in modo assolutamente distinto la carica che possono essere chiamati a coprire. Le mediocrità, le figure sbiadite debbono essere nel modo più assoluto escluse dai vari gradi di generale. Così si è fatto negli altri eserciti e la stessa cosa, intendo, abbia luogo nel nostro. Finisce la citazione. I gradi di generale e di colonnello debbono essere conferiti a chi spicca per trovare virtù militari e si dimostra meritevole e degno d'affacciarsi ai più alti livelli della girarchia. Qui ricomincia la citazione. Indistintamente tutti i comandanti quali nel periodo di esperimento delle funzioni del grado superiori dessero prova di non esservi adatti, riprenderanno le funzioni del proprio grado. Sono sicuro, conclude Cadorna, che e tali ufficiali troveranno nel loro alto sentimento di vecchi soldati la forza d'animo per sopportare la ferita al loro amor proprio e per prestare opera meglio proporzionata alle loro attitudini e sempre grandemente utile al paese. Finisce la citazione. Successivamente, il 9 maggio del medesimo 1917, il generalissimo torna sull'argomento circolare numero 54425, rilevando, apro virgolette, il numero impressionante di comandanti di reggimento e quello pure considerevole di comandanti di brigata che vengono continuamente esonerati per incapacità. Finisce la citazione. Lo soverchia indulgenza nei giudizi d'avanzamento priva reggimenti e battaglioni di ufficiali esperti i quali senza l'elevazione alle funzioni del grado superiore continuerebbero a essere buoni comandanti. Ricomincia la citazione. D'ora innanzi, prima di addivenire alla nomina di colonnelli al comando di una brigata, il comando supremo richiederà alla competente autorità e sulla stretta responsabilità di questa l'esplicito giudizio sulla loro idoneità a ricoprire la carica in modo veramente distinto. Analogamente, prima di nominare tenenti colonnelli al comando di un reggimento, il comando supremo richiederà alle stesse autorità l'esplicita assicurazione che gli ufficiali considerati emergano per qualità militare e per cultura in modo da dare sicura guarentigia che potranno percorrere con distensione i gradi superiori. Finisce il virgolettato. Tutti gli ufficiali incaricati delle funzioni del grado superiore saranno sottoposti dopo due mesi a nuovo accertamento inteso a stabilire in modo non dubbio se siano meritevoli della effettiva promozione. Dopo la reprimenda lo zuccherino, ci virgolettato, quanto sopra non pregiudica in alcun modo la facoltà attribuita alle varie autorità di emettere giudizi di incapacità e di provvedere ai conseguenti esoneri dal comando in qualsiasi momento come prescrivono le disposizioni fin qui emanate. Finisce il virgolettato. Il fenomeno del suramento è ridimensionato da Diaz con circolare riservatissima numero 86464 del 20 novembre 1917, quando gli austro-teddeschi sono stati appena arrestati sul piave e sul grappa. Virgolettato. In questi ultimi giorni ho dovuto costatare un sensibile aumento di proposte di esonero di ufficiali inoltrate dalle unità mobilitate. Ho dovuto anche e con rincrescimento constatare come diverse di esse sono motivate con semplici apprezzamenti personali e non invece basate su dati di fatto ben determinati. Quindi diciamo anche un po' antipatia, gelosia. Ora è mia ferma intenzione che in materia così delicata e di così grande importanza si proceda con tutte le cautele e con la massima serenità e ponderazione. A parte il fatto che la nostra scarsezza di ufficiali non ci permette una grande selezione, a parte anche la considerazione che molte volte chi sostituisce non vale di più di chi è esonerato, si deve considerare che si tratta di una questione morale di gravissima importanza. Questi continui esoneri, questo colpire inesorabilmente chiunque per qualunque motivo abbia errato, toglie ogni serenità di animo pertanto necessaria nella difficile situazione presente. Si colpisca chi dimostra cattiva volontà che è assolutamente non idonea le funzioni del suo grado, ma non si intervenga subito così duramente contro chi erra o per inesperienza o per un'iniziativa lodevole fatalmente non coronata successo e per altri motivi che possono presentarsi ad un più benevolo esame. Non si rinunci in una parola alla grande attribuzione del superiore che è quella di istruire, animare, guidare e correggere i propri dipendenti e si ricorra alla grave punizione in questione solo quando o la gravità del fatto o l'aver inutilmente adoperati tutti gli altri mezzi consigliano l'allontanamento dell'ufficiale. Quindi non è che appena sbagli tac ti si tagliano le gambe. In conclusione, salvo i casi di assoluta e urgente necessità intendo che non si facciano proposte di esonero specie di ufficiali che abbiano un ottimo passato se non dopo aver messo in opera tutti i mezzi di cui il superiore dispone per correggere l'inferiore, sempre ben inteso in relazione alla situazione ed avendo di mira il supremo interesse del servizio. Chiuso il virgolettato. Diretta conseguenza la circolare numero 28170 del ministro della guerra Alfieri in data 28 novembre 1917 che istituisce una commissione consultiva per il riesame degli ufficiali esonerati dal comando. Nel senso che non è che va solo per il futuro, però magari sono stati colpite gente che in qualche modo forse non meritava il siluro, soltanto 13 generali su 206, 6%, saranno riammessi alle grandi unità mobilitate e andremo a capire perché solo il 6%. Piero Melograni, storia politica della grande guerra 15-18, Bari 72, pagina 51, indica in 983 gli esonerati nell'arco dell'intero conflitto. Degli 807 da imputare a Catorna, 217 sono generali, 255 colonnelli, 335 comandanti di battaglione. In realtà i sororamenti superano di molto queste cifre. Il colonnello Gatti, storico ufficiale del Comando Supremo, annota che dall'inizio del conflitto al 10 maggio del 17 i comandanti si sono succeduti in media nel numero di 2 nelle armate, 3-4 nei corpi d'armata, 4 nelle divisioni e nelle brigate, 6 nei reggimenti e addirittura 18 nel novantesimo fanteria brigata Salerno. I 247 reggimenti di arma base, 210 fanteria, 21 di bersaglieri, 16 gruppi alpini hanno visto perciò avvicendarsi 1.500 ufficiali. Angelo Gatti, caporetto al diario di una guerra inedita, maggio-dicembre 17 a cura di Alberto Monticone e Bologna, 64, pagina 8. Le pubblicazioni ufficiali, le grandi unità della guerra italo-austriaca 15-18, riassunti storici corpi e comandi della guerra 15-18, brigate di fanteria, bersaglieri e alpini, forniscono i seguenti numeri di comandanti succedutisi nell'intero conflitto, escludendo caduti sul campo, feriti, prigionieri, dispersi e desonerati dal comando di unità di cavalleria, artiglieria e genio. Quindi solo di fanteria. 33 in 13 armate e corpi d'armata autonome, media di 2,5. 134 in 28 corpi d'armata, media 4,8. 359 in 77 divisioni di fanteria e speciali, media 4,7. 654 in 132 brigate di fanteria, bersaglieri e raggruppamenti alpini, media 4,9. 1390 in 293 reggimenti di fanteria, bersaglieri e gruppi alpini, media 4,7. 4789 in 921 battaglioni di fanteria e bersaglieri alpini, media 5,2. In sintesi, 1.200 generali, altrettanti colonnelli, 4.800 comandanti di battaglione, numeri ben superiori a quelli indicati da Melograni, anche se si viene conto di motivi da avvicendamento diversi dall'esonero, promozione, passaggio nell'altro in carico, cessazione del servizio attivo. È ovvio, non è che tutti i cambi nei comandi erano legati ai siruramenti, se uno viene promosso, vada sì che un colonnello che viene promosso generale non può rimanere a comandare un reggimento, deve andare a comandare quantomeno una brigata, quindi è ovvio che quell'avvicendamento non è dovuto al siruramento, magari ha proprio esattamente il contrario, l'hanno promosso perché ha ben meritato. Gli allegati AF incompleti riportano 8 comandanti d'armata esonerati, 37 di corpo d'armata, 102 di divisione, 54 d'arma, artiglieria e genio, 179 di brigata, 417 di reggimento. Luigi Zuccari, comandante della terza armata, è destituito 24 ore prima dell'inizio della guerra, questo l'avevo omesso prima, nel senso che il Duca Costa tecnicamente è stato sempre e solo lui alla terza armata, proprio perché il giorno prima era stato esonerato Zuccari. Già nel dicembre 14 è rimbrottato perché non applica a dovere le direttive del capo e stato maggio dell'esercito Cadorna. Nel maggio successivo la tensione fra i due sfocia in una rattura clamorosa, non si sa con certezza quale sia stato il detonatore della crisi. Secondo alcuni gli ordini di Cadorna prevedono che appena dichiarata la guerra sia occupato il Monte Medea, iniziativa alla quale Zuccari è contrario. Secondo altri, Zuccari ha prolungato troppo la permanenza nella sede estanziale di Firenze prima di trasferirsi in zona d'operazioni. Sta di fatto che una delle grandi unità dell'esercito è decapitata alla vigilia del 24 maggio e retta interinalmente dal generale Garioni, in attesa dell'arrivo del Duca d'Aosta, chiamato in tutta fretta a rimpiazzare il silurato. Cittato Mario Cervi, il Duca in Vitto, novembre 9, 87, pagina 87. Ettore Mambretti, pur intimo amico di Cadorna, è da questi rimosso dal comando della Sesta Armata all'indomani del sanguinoso insuccesso dell'Ortigara, giugno 17, nonostante la grande abbondanza di mezzi. Egli ha perduto la fiducia delle truppe anche per quella sua maledetta, è citato, fama di iettatore Cadorna, citato, numero 210, quindi è stato esonerato anche perché è uno iettatore. Assume il comando dell'OAFN, occupazione avanzata frontiera nord, confine Italo-Svizzero, qui non sono assegnate truppe combattenti, effetto della sua fama, se ci si domanda, può essere, diciamo, a comandare cose un po' meno importanti. Settipio Piacentini nel 1913 era compreso nella terna dei candidati alla successione del defunto Ginele Pollio come capo di Stamagio dell'Esercito. Egli non è propriamente un silurato. La ristrutturazione della zona di Gorizia in seconda armata al comando di Luigi Capello lo lascia senza incarico. Cadorna gli rende onore per la sua risposta di gradimento di un comando di corpo d'armata. Citazione. Sono fiero e onorato di poter servire in qualunque modo il paese. Finisce. Piacentini diventerà comandante superiore delle forze italiane nei Balcani, avendo alle dipendenze il sedicesimo corpo d'armata in Albania, la trentacinquesima divisione in Macedonia e le poche unità di stanza a Corfu. Viene messo da parte. Pietro Frugoni, quinta armata, portato per sua natura alle scorribande ancillari in tutte le ore della giornata e della sera, citato da Marziano Brignoli, il Ginele Giovanni di Breganze, Memorie storiche militari 83 e Roma 84, non è riammesso in sede di resame al comando di grandi unità operative per effetto anche di un memoriale presentato dal Ginele Reisoli, già suo dipendente, alla seconda armata all'inizio del conflitto. Quindi abbiamo anche delle trame all'interno di questi riesami. Giuseppe Pennella, da comandante della 35esima divisione di Fanteria, 6 maggio 16 giugno 17, è entrato in attrito con il comandante in capo dell'armata d'Oriente, il generale, il francese San Re. San Re, Catorna ne ha ordinato il rimpatio destinandolo peraltro al prestigioso incarico di capo di Stato Maggiore della Terza Armata a voler significare che ne ha condiviso l'operato. Quindi diciamo che non è che andasse male sempre. Comandante dell'Ottava Armata, dal 1 al 23 giugno 18, pur fedelissimo di Diaz, è esonerato per non essere stato all'altezza della situazione nella difesa del Montello durante la battaglia del sostizio. Assuma il comando del XII Corpo d'Armata. Florenzio Aliprindi, esonerato al comando del V Corpo d'Armata, dopo un mese di guerra è stato comandante in seconda del Corpo di Stato Maggiore. In questa veste aveva ricevuto in anni lontani il giovane Diaz appena assegnato, virgolette, sono un vecchio ufficiale di Stato Maggiore e ho alcune abitudini d'ordine che desidero siano rispettate perché producono, come lei vedrà, del gran bene. Finisce la citazione. Nella cartella, linetta a matita di un centimetro sul documento, non lo vuol più rivedere. Segno di mezzo centimetro, lo vuol rileggere. Puntino, trattazione a voce, nessun segno studio della pratica, carta disposta diritta nella cartella, vedere con immediatezza, carta disposta un po' obbligua a rimandare al giorno successivo, carta disposta traversalmente, vedere con minore urgenza. Diaz esce dall'ufficio senza aver capito nulla. Nel senso, ha fatto una sorta di spiegazione di come lui metteva i fogli o cosa scrivesse, che significava tutta una sorta di codice segreto. Tant'è che Diaz non ha capito niente, però Diaz poi è diventato capo di Stato Maggiore dell'Esercito, quindi comandante supremo. Ecco le parole di Catorna riferite dal colonnello Gatti, storico ufficiale del Comando Supremo nei confronti di Carlo Ruel, comandante del VI Corpo d'Armata. Citazione, il fatto per cui lo eliminai sorpassò ogni gravità. Aveva sotto di sé una brigata di romagnoli indocili. A un certo momento questi si rifiutarono di rimanere in trencia per un'operazione. Il generale non si vergognò di scendere a patti con essi, promettendo che quella sarebbe stata l'ultima volta nella quale avrebbero attaccato. Lo eliminai telegraficamente. Questa è una citazione di Mario Silvestri su Isonso 17. Emilio Bertotti, comandante del V Armata, corpo d'Armata, già in precedenza aveva fornito cattiva prova alla testa del corpo speciale in Albania. Il mancato tempestivo sgombero di Durazzo, avvenuto poi con forti perdite a seguito dell'attacco austro-ungarico, aveva comportato una diminuzione del prestigio italiano nella regione, causando anche una crisi ministeriale. Giorgio Cigliana, undicesimo corpo d'armata, è liquidato con vari addebiti, tra i quali il più giustificato è di aver rinforzato le sue truppe in piena battaglia con battaglioni complementari non istruiti, giunti appena un'ora prima. Nell'ottobre del 16, Catorne in persona aveva difeso le fucilazioni da lui ordinate nel 75esimo Fantele Brigata Napoli e del 6o Bersaglieri. Vincenzo Carioni non ammette compromessi né per sé né per i suoi subordinati. Di intelligenza non brillante e di modesta cultura, gli imprime tuttavia vigore alla sua azione di comando nei momenti difficili grazie al suo quadrato buonsenso. Durante la Grande Guerra tiene bravamente il comando del settimo corpo all'estrema destra terza armata, passa per primo l'isonzo attestandosi al terribile Carzo. Poi la fortuna non lo aiuta. Cittazione di Longo nei profili dei capi militari quelli abbiamo esaminato l'anno scorso. Quindi il comandante del secondo corpo d'armata alla vigilia della decima battaglia dell'isonzo, maggio del 17, fa presente al comandante della zona di Gorizia, Luigi Capello, che un attacco frontale alla maledetta quota 383 condurrebbe al massacro. Chiede in alternativa di impiegare una delle quattro divisioni in un attacco diversivo alcuni chilometri più. A nord il superiore, sentendosi oltraggiato da questa insolenza, lo silura senza esitazione. Non voglio consigli, sei un inaffidabile, quindi qui c'è anche una citazione. Isonzo, il massacro dimenticato della Grande Guerra. Diversa la versione di Mario Silvestri, Isonzo 17, l'ufficiale di collegamento riferisce al comandante d'armata della scarsa fiducia che alcuni suoi colleghi ripongono nell'esito positivo del prossimo attacco frontale. Capello descrive a Catorna un secondo corpo d'armata infiacchito da molti mesi di inattività che ha stipulato una tacita tregua reciproca con i austriaci. Risultato, Garioni è sostituito da Badoglio. La toppa è peggio del buco. Le due versioni non appaiono in contrasto. La motivazione ufficiale accenna gravi deficienze di comando e difettoso impiego delle artiglierie. Governatore della Tripolitania al termine del conflitto, mal servito dagli organi politici alle sue dipendenze, esiderà a intraprendere con energia la riconquista del terreno perduto durante la guerra. Come viceversa saprà fare più tardi Giuseppe Volpi di Misurata. Passiamo avanti. Augusto Vanzo, comandante del 27esimo corpo d'armata e già valido capo di Stato Maggiore del Duca d'Aosta terza armata, è esonerato per la lentezza dei movimenti delle truppe durante la decima battaglia di Isonzo, sull'altopiano della Baenzizza. È sostituito da Badoglio. Badoglio è un po', il Badoglio è colui che si inseriva sempre all'interno dei sulloramenti degli altri. Il colonnello Vacca Maggiolini, suo capo di Stato Maggiore, racconta al colonnello Gatti, storico del Comando Supremo, virgolettato, il genere Vanzo fu per tutta l'azione terrorizzato dal genere Capello. Era chiamato nella giornata 27-28 volte al telefono ed accolto con scariche d'improperi. Le minacce di sulloramento e peggio erano continue. Spesse volte il genere Vanzo lasciava il telefono piangendo da parte sua e Gidi, capo di Stato Maggiore di Capello, mi chiamava al telefono e mi ripeteva, ricordati che al secondo corpo d'armata abbiamo sullorato Garioni, il capo di Stato Maggiore e il genere d'artigliere. Quindi questi andavano con una certa tranquillità d'animo a comandare queste cose, al senso che poi avevano anche, quindi capite bene come andassero, come una certa, diciamo, che la sedia scottasse. Quindi non avevano poi la lucidità per fare delle scelte adeguate e quindi venivano a sua volta sempre esonerati. Continuamente così, è proprio così l'anno la prassi. Tanto che Vanzo, il quale però era già indebolito, riversava sui dipendenzi il suo orgasmo. Giunse a minacciare i comandanti di brigata della fucilazione. Non aveva più in bocca anche lui che fucilare, silurare, mandar via. Era una sorta a cascata, nel senso che se mi incudono terrore, io l'unico modo per farmi rispettare è incudere terrore anche anch'io. Una vita d'inferno, cita Gatti nella sua opera. Ettore Negri di Lamporo, tenente generale già comandante del trentesimo corpo d'armata fino al 7 ottobre del 17, partecipa alla battaglia di Caporetto. 17 giorni dopo, alla testa della terza divisione e alle dipendenze di un suo inferiore in grado. Il maggior generale Bon Giovanni, comandante del settimo corpo d'armata. Abbiamo anche queste cose simpatiche, nel senso che ci troviamo di fronte a un generale, magari un maggior generale come era Badoglio che comandava un corpo d'armata che a sua volta appunto aveva sotto di lui delle divisioni comandate da tenente generali. Quindi questa è una situazione veramente ingarbugliata. Asclepia Gandolfo, che sapremo futuro esponente di punta del movimento fascista, che sostituisce Capaciocchi, quarto corpo d'armata, all'indomai di Caporetto sarà a sua volta sostituito al comando dell'ottavo corpo da Francesco Saverio Grazioli durante la battaglia di Vittorio Venno. Il suo caso è esaminato in questo studio. Su Grazioli poi sappiamo tantissime cose che comanderà due corpi d'armata ma non gli verrà mai riconosciuto il grado di generale d'armata. E lo farà in guerra, mentre Badoglio otterrà il grado di generale d'armata e poi anche di maresciolo d'Italia, anche se poi in guerra, durante la Grande Guerra, non aveva comandato l'armata. Il combattimento intendo. Non dorme mai Adolfo Tittoni. In Eritrea svegliava l'accampamento alle 3 del mattino, dopodiché gli uomini rimanevano senza far niente per un paio d'ore, in attesa delle luci dell'alba. Sempre Gatti che lo racconta. Clemente Lequio, già comandante dell'OAFN, occupazione avanzata fronteniana nord, confine svizzero, è destituito anche dal successivo incarico di spettore delle brigate di marcia. Proprio una situazione deficitaria. Citato. In generale lavorava assai poco, ma quel poco lo faceva così. Alla sera, abbondante pasto e lunga seduta, poi immancabilmente partita a tarocchi, confumata di infinite sigarette. Guai se uno non sapeva o non voleva giocare. Alle 23 o le 23.30, quando era ora di andare a dormire, Lequio cominciava a rivedere la cartella delle pratiche e stava alzato fino alle 2 o alle 13. Prima il piacere e poi il dovere. La prima divisione di cavalleria, terza armata, perde un'occasione d'oro nella fase d'avvio delle operazioni. Dovrebbe portarsi di sorpresa fino ai ponti di Pieris sul passo Isonzo per evitarne la distruzione. Il suo comandante, Nicola Pirozzi, vive però con l'incubo di agguati nemici e lascia passare il momento in cui le linee austriache sono praticamente in difese. È destituito, ma ormai il guaio è fatto. Vittorio Murari della Corte Bra, maggior generale, stabilisce un primato, facendosi estromettere da due divisioni, la 34esima e la 21esima, in soli 24 giorni. Ci vuole mestiere. Altrettanto Alessandro Angeli e Pasquale Oro. Pietro Fioretta, esonerato dal comando di divisione, è rimosso dopo due settimane anche da quello di Brigata. Cioè fa la carriera al contrario, praticamente. Giovanni Prelli è destituito dal comando della terza divisione, secondo corpo d'armata di Reisoli, pur avendo conquistato e mantenuto il possesso della testa di Ponte di Plava, oltre l'Isonzo. In sede di revisione è insegnito della commenda dell'ordine di Savoia proprio per quell'episodio. Quindi diciamo, sotto Cadorna viene esonerato, poi dopo Dico Dias viene anche decorato per quel fatto, i casi della vita. Andrea Graziani, e qui apriamo un capitolo a parte, maggior generale è sollevato dal comando della 33esima divisione nel giugno del 17 perché, virgolette, manca di elevata qualità di carattere e perde spesso il completo dominio delle sue facoltà mentali. Lo sappiamo, dopo farà carne di porco in tutti i sensi. Durante l'offensiva di maggio ha lasciato la grande unità senza guida per alcune ore, recandosi in prima linea a dare la caccia, arma alla mano a coloro che tornavano indietro. Quindi è sintomatico di come egli si preoccupi di queste cose e lasci il comando un po' così. Il 2 novembre è nominato Ispettore Generale del Movimento di Sgombro, quindi per fare le persone che devono, cioè, dall'isonza al piano, quindi è responsabile di questo arretramento, diventando subito famoso per i metodi spregiudicati con cui ristabilisce la disciplina fra gli sbandati. Gli si trabuiscono 34 esecuzioni sommarie, un artigliere è fucilato perché passa davanti a lui col sigaro in bocca, fissandolo con l'aria di sfida. Riammesso da Diaz alle unità mobilitate, comanda la 6a divisione ciecoslovacca sul Piave, trovando modo anche qui di ordinare l'esecuzione sommaria per diserzione di 8 soldati di quella nazionale. Anche i ciecoslovacchi sono ben serviti. Nel dopoguerra presterà servizio nella milizia volontaria per la sicurezza nazionale del Movimento MWSL con il grado di luogo dente generale e dove poteva andare, nel senso che un personaggio così giusto nella milizia fascista. Attilio Termes, successore di Graziana, testa della 33esima divisione e anche lui successivamente defenestrato l'anno precedente e comandava il 141esimo reggimento di fanteria brigata Catanzaro. Il 28 maggio del 16 un sottotenente, 3 sergenti e 8 miliardi di truppa del reggimento messi in fuga dagli austriaci sono passati per le armi, primo caso di decimazione o meglio di estrazione a sorte del corso della guerra. Il 28 maggio del 16. Cadorna elogia Termes in un ordine del giorno all'esercito per essersi assunto la responsabilità del provvedimento. Per inciso la medesima brigata Catanzaro 141esimo e 142esimo fanteria si ammutinerà nel luglio del 17 rifiutando di tornare in linea 28 i fucilati, 12 dei quali per estrazione a sorte. Quindi si capisce che questi metodi sono efficaci e mantengono una certa stabilità, se si ripetono a seguire. Alcuni serulati cercano riscatto all'estero, Luigi imbogiovanni, una torta di cervelli che fuggono. Già settimo corpo d'armata e Vittorio Lia, già venticinquesima divisione, sono nominati uno dopo l'altro comandante del corpo di spedizione italiano nel Mediterraneo orientale. Alla mensa della brigata Trapani, rinomata per la presenza di un cuoco di professione, siete spesso capelli d'annunzio. Il comandante Emilio De Bono è esonerato perché accusò da capello, 100 kg di cattiveria, un virgolettato, di scarso, mordente, nell'attacco al velichi. Il suo successore Dometrio Carbone dura solo sei giorni, quindi diciamo che le cose si ripetono. Riabilitatosi in Albania, rientra in Italia dopo Caporetto, quindi mi è nata pure bene, comandando la 38esima divisione e il nono corpo d'armata, compone la canzone del Grappa. Nell'imitato dopo guerra, aderisce al fascismo quadrunviro, governatore, maresciallo, eccetera, eccetera, eccetera. Il situto tocca persino a Maurizio Gonzaga, decorato di medaglia d'oro per la conquista del Vodice. Penso Gonzaga ne ha frese due di medaglia d'oro, non è che stiamo parlando di un pivello. Esonerato dal comando della cinquantresima divisione durante la ritata all'isonza al Piave e riammesso alle grandi unità mobilitate, quattordicesima divisione, alla fine d'agosto del 18. Meriterà una seconda medaglia d'oro proprio per il suo comportamento dopo Caporetto. Anche il figlio sarà decorato medaglia d'oro al Vodormitare, una delle primi vittime dopo l'8 settembre della guerra di liberazione. Quindi diciamo tra padre e figlio tre medaglia d'oro al Vodormitare. Nel dopo guerra comanderà per un anno la milizia volontaria per la sicurezza nazionale, succedendo a Gandolfo. Gli sarà concesso di aggiungere al suo cognome il predicato del Vodice. Luigi Basso, maggior generale, pur rimosso al comando della brigata Benevento, 133 e 134 fanteria. Il 20 giugno del 16 e posto a disposizione in soprannumero lasciando il fronte, il 16 luglio è riammesso nell'organico dei generali, quale comandante della brigata Salerno, 89 e 90 fanteria. Per i suoi atti di valore comanderà poi la brigata Teramo, 241 e 242 fanteria, la 34esima divisione, il 18esimo corpo d'armata. Tenente generale nel 18 sarà generale di corpo d'armata nel 22. L'ira di Capello, seconda armata, s'abbatte su Riccardo Bonaini da Cignano, comandante dell'undicesima divisione per la mancata conquista del San Gabriele nell'ambito della pur vittoriosa undicesima battaglia dell'Isonso, offensiva della Benzizza, agosto settembre 17. Il comando di divisione che aveva la direzione dell'operazione era troppo lontano e scartato in fuori dalla linea d'afflusso dei rincalzi e non poté influire su di essi. Non si accorse nemmeno del mancato loro concorso. Con citazione da Silvestri. Bonaini assume il comando della trentesima divisione da cui è esonerato in ottobre passando alla brigata Arezzo. Il comando di grandi unità mobilitate non porta bene a Domenico Grandi, 14esimo corpo d'armata e Vittorio Zuppelli, ventesima divisione, già entrambi ministri della guerra. Francesco Tamagni, ufficiale degli Alpini, comanda sia pur per poco la 51esima divisione col grado di colonnello brigadiere, niente meno. Alceo Cattalocchino, colonnello brigadiere esonerato dal comando della brigata Abruzzi, 57esima e 58esima fanteria, nel marzo 17, cade sul campo sei mesi più tardi alla testa del 274esimo reggimento di fanteria brigata Belluno, meritando la medaglia d'oro al valore militare. Interessante, questo è stato esonerato dal comando della brigata, però poi muore in combattimento al comando di un reggimento e viene decorata la medaglia d'oro al valore militare. Una cosa strabiliante. E tra l'altro questo io non l'ho citato, io ho scritto un volume, se non lo sapete, già entr in CEA, sui 20 generali comandanti di grande unità decorati di medaglia d'oro al valore militare. 20 generali, 21 medaglie, perché c'era Gonzaga del Vodice che ne ha presi due. Questo generale, Cattalocchino, non l'ho inserito perché la medaglia l'ha presa al comando di un reggimento, quindi l'ho catalogato come colonnello. Enrico Dellini, colonnello brigadiere, rimosso dal comando della brigata Lombardia, 73 e 74 fanteria, assume il comando di un reggimento d'artiglieria. Nel 23 sarà ucciso in territorio greco insieme con quasi tutta la missione incaricata della delimitazione dei confini militari albanesi. I forze italiane occuperanno in risposta e per breve tempo l'isola greca di Cufu, la famosa commissione Tellini. Questo studio quindi a sintesi riporta le autodifese del capo di stato maggiore dell'esercito Cadorna di tre comandanti d'armata, Nava, Brusati e Capello, di cinque comandanti di corpo d'armata, Reisoli, Segato, Cavaciocchi, Bon Giovanni e Gandolfo. Esse sono raggruppate per fatti d'arme e precisamente operazione iniziale, strafeca di spedizione, guerra bianca, caporetto, vittorio veneto, commento statistico, il nome Luigi ha portato male a 5 su 9. E con questo mi sembra che abbiamo sintetizzato perfettamente l'opera espressa da Pelagalli in questo saggio. Detto questo, come al solito procuratevi questo volume perché è veramente interessante. Mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!